I nostri indiconti sono i bilanci tutti gli anni e quindi per forza di legge siamo... Aset ieri nella sala ipogea della Memoteca Montanari ha tenuto un incontro con i propri utenti per far comprendere qual è il meccanismo che sta alla base delle nuove tariffe che sono state applicate per le bollette in arrivo in questi giorni a tutti i clienti Aset. Presidente Aset Paolo Reginelli, Leonardo Mencucci, il responsabile dell'ufficio clienti e poi il direttore generale Marco Romei hanno voluto metterci la faccia come loro stessi hanno tenuto a precisare e non fare come è avvenuto altrove dove altri gestori di rete hanno mandato a casa le bollette, gli aumenti, una bella nota esplicativa e chi si è visto si è visto. I vertici Aset hanno preferito in un'ottica di grande trasparenza il confronto diretto con chi ha voluto esserci di persona ed in molti hanno scelto così riempendo quasi completamente la sala e per chi invece non ha potuto esserci predisporre una diretta televisiva con fano tv per raggiungere il più alto numero di persone. Ma come era prevedibile per chi ha già avuto le prime bollette e nuclei familiari mono o bicomponenti e non residenti, gli animi si sono presto scaldati cogliendo l'occasione anche per loro di avere un vis-à-vis con i vertici aziendali per manifestare tutto il proprio disappunto per questa operazione soprattutto perché i conguagli con la nuova tariffazione sono retroattivi e riguardano tutto il 2018 e sono tutti su questa prima bolletta facendo schizzare così le utenze a tre cifre. L'adeguamento tariffario doveva essere fatto entro il 30 aprile 2018 voi lo approvate in Ato l'11 ottobre 2018 perché siete stati in ritardo? Perché la gente avrebbe modificato i propri comportamenti, avrebbe consumato meno acqua. È stato ribadito però nell'incontro che questa nuova metodica di tariffazione che ha l'intento da parte dell'autorità nazionale Arera di livellare la spesa idrica tra i nuclei con più di quattro persone e quelli singoli non è una scelta di Aset che invece si trova come altre parti d'Italia a dover gestire questo difficile momento di transizione tra il vecchio e il nuovo. Sono diversi gli argomenti di disappunto che sono stati però portati dalla platea ad Aset imprimisse appunto la retroattività che proprio non è andata giù e come in altre situazioni di difficoltà per anziani e pensionati che abituati a pagare bollette dai 50 ai 60 euro ora si trovano purtroppo a dover sborsare anche oltre 300 euro in alcuni casi. Altra nota incalzata molto vibratamente è quella del congru preavviso. Nel 2018 di questa mannaia che si sarebbe abbattuta si si poteva anche avere un segnale precedente cosa che avrebbe potuto e consentito di chiudere a qualcuno un po' di più il rubinetto di casa per fare un po' più di economia. La serata però si è conclusa tra scontenti, esasperati e scettici con la promessa da parte di Aset di incrementare i fondi messi a disposizione per le fasce in difficoltà e incentivare in tutte le situazioni possibili al massimo la rateizzazione della bolletta.